Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Quest'oggi ragazzi, e questa volta non sto scherzando, non è un pesce d'aprile Potremmo davvero trovarci di fronte alla rivelazione, fra tante virgolette, ufficiale di Pokémon Stars Perché fra tante virgolette, perché in realtà non è di fatto la rivelazione ufficiale, ossia rilasciata da Nintendo Ma probabilmente dopo questa scoperta che ho fatto girando sulla community spagnola di Youtube Potremmo davvero essere di fronte a un errore in realtà che conferma Pokémon Star Ora ragazzi, adesso vi andrò a far vedere una cosa molto particolare Come vedete siamo sul sito ufficiale di Pokémon Vedete in alto a sinistra l'URL, ossia www.pokémon.com e poi USA Ora, se io andassi a fare così e scrivessi OSCI Potete vedere come mi reindirizza alla pagina ufficiale Ecco qua, siamo di nuovo sulla pagina ufficiale Se noi scrivessimo un'altra parola casuale per dire, non lo so, se noi scrivessimo rocket25 per dirne una In teoria la pagina non dovrebbe apparire, page not found Se invece noi scrivessimo pokemon.com xy Andremo a ottenere la pagina dedicata per l'appunto ai giochi di sesta generazione Possiamo mettere per dire ragazzi anche una parola come grey che sarebbe stato il terzo titolo di quinta generazione E vedete che non appare nessuna pagina oppure possiamo andare, che ne so, a provare con Pokemon Z Visto che doveva essere il terzo titolo di xy Page not found In questo caso ragazzi, se andiamo a mettere il nome di un titolo già registrato da Nintendo ma mai rivelato Non abbiamo nessun risultato con questo trick Ora ragazzi con questo cosa voglio dire Voglio semplicemente dire che In italiano Yoshi vuol dire Stella E quello che abbiamo appena visto ragazzi sul sito ufficiale di Nintendo Potrebbe veramente essere un errore per la verità Che potrebbe mostrare come in realtà il sito sia già programmato per ospitare una pagina Dedicata a Pokemon Star Ora, non me la sento di dire che il gioco sia praticamente già annunciato Ma secondo me questa è una coincidenza troppo grande Troppo grande Per non essere rimarcata E spingo sempre di più nella mia teoria Secondo la quale il prossimo gioco Non sarà un remake di Pokemon Diamante Perla Ma sarà per l'appunto Dopo tanto tempo che non ne facevano uscire Un terzo titolo della settima generazione Ragazzi Io spero che questo video vi sia interessato E fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Anche se non credo ci sia molto da pensare in questo caso Perché questa coincidenza se così vogliamo chiamarla È davvero troppo strana E sinceramente Questa cosa che ho scoperto mi ha mandato in subullio Tant'è che sto registrando con i capelli ancora bagnati Perché sono appena uscito dalla doccia E ho scoperto sta roba qua e ho detto Oddio che roba Ragazzi Nulla Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Mi raccomando passate dai social Vi lascio in descrizione il link ufficiale del sito In modo tale che anche voi Possiate provare questa cosa qua Che vi ho mostrato in questo video Mi fa strano perché l'ultima volta che ho fatto una roba del genere Era un pesce d'aprile Ma questa volta ragazzi È evidentemente qualcosa di più serio Vi lascio in descrizione per l'appunto il link per il sito Con il quale potrete andare a verificare Insomma Da voi questa cosa particolare che vi ho fatto vedere Tra l'altro ragazzi ve lo dico Perché non so se lo sapete Ma dal canale ufficiale youtube di pokemon Sono stati eliminati tutti i video Dei vari annunci di pokemon sole Di pokemon x y Gli annunci dei trailer Roba di questo tipo Ora è un post che ho visto su facebook E altri video sparsi quali la Ve li riassumerò in breve Cosa vuol dire che abbiano cancellato questi video insomma Vuol dire che se dovesse essere annunciato Un ipotetico nuovo gioco anche su youtube E voi andasse a cercare sulla barra di ricerca Il trailer del nuovo gioco Questi video qua che sono stati rimossi Avrebbero potuto apparire subito i nomi E quindi creare dei problemi E questo cosa potrebbe voler dire Forse che game freak e pokemon in generale Hanno eliminato questi video Per dare spazio in home Nelle ricerche Al prossimo gioco pokemon annunciato Grazie alla teoria che vi ho appena portato E più che teoria in realtà è un errore Che vi ho portato Questa prova insomma Che vi ho fornito quest'oggi Che ci sarà pokemon stars appunto Ragazzi fatemelo sapere anche questo nei commenti Ma dopo questa È fatta ragazzi E nulla Forse con una nuova speranza di vedere Un gioco pokemon Nel prossimo 2018 Io vi saluto E noi ci becchiamo In un prossimo video